Facendo scienza ci si deve porre una domanda, quando si fa scienza ci si pongono sistematicamente molte domande, ma credo che ci sia una domanda ancora più fondamentale che ci si deve fare e la domanda è questa, a che cosa serve quello che sto facendo? Allora se applichiamo questa domanda alle neuroscienze cognitive, la risposta che ci si dà è questa, le neuroscienze cognitive a cosa servono? Servono a fare luce da un punto di vista, da un angolo prospettico molto particolare che è quello del cervello corpo, che cosa significa essere un essere umano? Allora se lo scopo principale delle neuroscienze cognitive è fare luce sull'essere umano, un ambito di cui le neuroscienze cognitive si devono occupare è l'ambito dell'estetica, perché la nostra specie è la specie estetica per antonomasia, noi siamo letteralmente ossessionati dalle immagini, immagini che creiamo sistematicamente e immagini di cui siamo dei consumatori onnivori. Questo è tanto più vero oggi in cui la rivoluzione digitale ci espone a miliardi di immagini che quotidianamente vengono distribuite digitalmente sui vari canali della rete, i social network, eccetera. Quindi per rispondere a questa domanda fondamentale un tema ineludibile è quello della settima arte, cioè è quello delle immagini in movimento, è quello del cinema. E quindi circa dieci anni fa ho iniziato a collaborare con un collega, un amico della mia università, dell'Università di Parma, il professor Michele Guerra, che è uno studioso appunto di cinema e insieme a Michele abbiamo iniziato un percorso di esplorazione teorica ed empirica che ci ha portato a cercare di rispondere con una serie di esperimenti e con una serie di elaborazioni teoriche a questa domanda fondamentale. Perché andiamo al cinema? Perché ci piacciono i film? E il vantaggio di cercare di rispondere a queste domande utilizzando le neuroscienze cognitive sta nel fatto che quello che si è andato scoprendo negli ultimi 20-30 anni è come il nostro cervello corpo in qualche modo risponde in modo molto simile, straordinariamente simile al mondo fisico in cui viviamo la nostra vita quotidiana, la cosiddetta realtà, ma anche al mondo della finzione, in particolare al mondo della finzione cinematografica. Quindi le emozioni che io provo nella vita reale e le emozioni che io provo vedendo un film sono le stesse identiche emozioni. Per molti anni si è pensato che ad esempio le emozioni provate guardando un film non fossero emozioni reali perché non erano reali le situazioni che le evocavano. C'è stato chi addirittura è arrivato a chiamarle quasi emozioni. Bene, diciamo che la ricerca neuroscientifica ci dice come queste siano genuine emozioni, ci dice anche qualcosa di più. Molti dei meccanismi che noi applichiamo per trarre un senso dal nostro rapporto con il mondo della realtà le mettiamo in campo anche quando cerchiamo di dare un senso alle vicende, ai movimenti, ai sentimenti, alle esperienze che vediamo provare a queste sagome bidimensionali che si muovono sullo schermo che sta di fronte a noi. E quindi per dare un senso a questo programma di ricerca con Michele Guerra e con gli altri membri del nostro gruppo di ricerca ci siamo posti delle domande fondamentali delle domande, cioè che in qualche modo hanno a che fare con i ferri del mestiere utilizzati da chi fa cinema per tenerci incollati alla poltrona, per coinvolgerci nei confronti dei protagonisti delle storie raccontate dal film. E quindi abbiamo deciso di puntare la nostra ricerca su due aspetti fondamentali dello stile cinematografico, i movimenti di macchina e il montaggio. E queste ricerche ad esempio ci hanno portato a capire come l'invenzione della Steadicam che fa il suo debutto nel grande cinema con Stanley Kubrick in The Shining ci porta letteralmente dentro alla scena, determina un coinvolgimento dello spettatore ancora maggiore dei movimenti di macchina più tradizionali, quelli utilizzati utilizzando lo zoom o muovendo la cinepresa sulle rotaie del dolly perché noi camminiamo letteralmente seguendo l'occhio della cinepresa. Noi simuliamo il movimento dell'occhio della cinepresa che è mosso ovviamente quando si riprende usando la Steadicam dal corpo dell'operatore. E allo stesso modo abbiamo dimostrato come quando noi montiamo una scena in qualche modo venendo meno a una delle regole fondamentali del montaggio classico hollywoodiano che deve dare il senso della continuità, quindi il bravo montatore in qualche modo deve non renderci consapevoli del fatto come la storia raccontata in un'ora e mezza o due ore di film derivi dalla giusta posizione di tante scene che vengono girate separatamente l'una dall'altra. Ci deve dare il senso della continuità. Quello che abbiamo scoperto è che quando noi riprendiamo una scena violando questa continuità, ad esempio spostando la cinepresa dal lato opposto rispetto a cui l'avevamo posto per girare la prima scena, quindi violando quella che tecnicamente si chiama la regola dei 180 gradi, il nostro cervello risponde a questo montaggio discontinuo come quando si trova di fronte a un qualche cosa che in qualche modo non ci torna, ad esempio quando vediamo eseguire un'azione in modo scorretto. Quindi un ulteriore elemento che ci dice come guardando un film fondamentalmente noi mettiamo in campo gli stessi meccanismi, le stesse risorse cerebrali e corporee che normalmente utilizziamo nella vita reale. Grazie a tutti. Grazie a tutti.